Il primo incontro non si scorda mai, specie se nella fase più calda di una competizione elettorale importante come quella per l'elezione del nuovo Presidente della Regione. Quello tra Marco Marsiglio e Luciano D'Amico è davvero un primo incontro, a parte un precedente di qualche tempo fa, Torricella Peligna, in occasione del premio aggiunfante nel quale si incrociarono di sfuggita. Un primo occhi negli occhi, una prima stretta di mano, proprio all'ingresso degli studi di Reteotto, questa mattina intorno alle 10 all'insegna della bontonna e dei sorrisi, come si conviene tra due galantuomini. Secondo studi scientifici bastano 7 secondi per capire se è odio o amore. Marsiglio e D'Amico, candidato del centrodestra l'uno, candidato del patto per l'Abruzzo l'altro, sembrano essersi presi talmente bene da decidere, come prima cosa in assoluto, di scambiarsi il proprio numero di cellulare. Accompagnati dai rispettivi staff sono stati accolti dal direttore di Reteotto Carmine Perantuono, dal direttore vice caporedattore del centro Piero Anchino e Lorenzo Colantonio e l'atmosfera è apparsa ancora più cordiale, tra l'ironia per alcune anticipazioni, forse un po' troppo anticipate, sulle pagine di oggi del quotidiano d'Abruzzo e una campagna elettorale particolarmente frenetica. Intanto a Roberta Marcantonio, dello staff di D'Amico, il compito del testa o croce per stabilire, secondo regolamento, chi tra i due avrà diritto a parlare per primo in questo tanto atteso confronto televisivo, talmente atteso da essere perfino citato sul sito web dell'Espresso. Dopo il fischio d'inizio da parte del regista Danilo Cinquino, l'avvio vero e proprio con tanto di palleggio a centrocampo nelle prime battute, tanto per usare un gergo calcistico, prima di affondare il colpo sulle questioni più importanti che riguardano il bene della nostra regione, ma ha più di Fioretto che di Sciabola. Oggi è il primo di una lunga serie di dibattiti, ci incontreremo, facciamo prima delle battute insieme al mio collega Luciano D'Amico, diventeremo presto amici, non ci conoscevamo prima, non ci siamo frequentati, abbiamo avuto percorsi ed esperienze diverse, però avremo modo in questi 20 giorni di frequentarci anche fin troppo, speriamo di non rischiare di diventare noiosi nei nostri dibattiti, di non farlo diventare una recita al soggetto. Io credo che il 10 marzo è necessario che vinca la democrazia e per far vincere la democrazia è necessario che molti abruzzesi tornino a votare e per tornare a votare bisogna convincerli che saranno loro a decidere del proprio futuro e lo faranno confrontando i programmi, confrontando i progetti, confrontando tutto ciò che si propone perché fra 10 anni, 15 anni la nostra regione possa essere una terra ricca di opportunità. La confronto in toni pacati non può che essere più utile rispetto a slogan o grida che creano solo confusione.